Hanno perso i propri cari, ma non hanno ancora perso la speranza di comunicare con loro. Ho un dono speciale. Sono in contatto con l'aldilà. Preparatevi a conoscere Teresa Caputo e le sue storie di incontri e riavvicinamenti ultraterreni. Perché a volte non è detta l'ultima parola. Long Island Medium, da lunedì 17 febbraio alle 10.55 su Real Time. Grazie a tutti.